Siamo con Mr. Raffaele alla vigilia della sfida alla Potenza. Che settimana è stata per il Catania? È stata una settimana che si è complicata un pochettino sul finire, però dove abbiamo preparato questa partita in maniera minuziosa, dove vogliamo continuare con questa striscia che ci dà continuità nei risultati e ci deve dare anche nella prestazione. Quindi secondo me abbiamo fatto una buona settimana di lavoro e speriamo che domani sul campo si veda. Daniele Loporto per il Giornale di Sicilia. La trasferta di Potenza è un po' anche la partita del cuore per lei, ma soprattutto è una grande opportunità per continuare la crescita ulteriormente rilevata a Viterbo. Assenze importanti, ma è possibile vincere ancora in trasferta per avvicinarsi al terzo posto? Diciamo che per quanto riguarda il livello personale è normale che è la mia storia recente, quindi torno con grande piacere in una piazza a cui mi sento molto legato a livello affettivo e naturalmente dove ho ricevuto un grande calore da parte dei tifosi. Non arrivo come un ex dal dente avvelenato, anzi ho un rapporto, molti mi hanno chiesto in questo periodo, ho un rapporto eccezionale col Presidente per come è stato nei due anni, con l'ambiente e anche con la stragrande maggioranza dei giocatori che ho avuto a disposizione, compresi quelli che ci sono. E' normale che è messo da parte questo, poi domani sarà una partita dove noi vogliamo continuare questa striscia di risultati fuori casa, vogliamo assolutamente provare a centrare questi tre punti e se mi consenti una battuta mi auguro che poi dalla prossima partita il Potenza riacquisti poi una classifica che meritano e quindi niente, sono concentrato per i tre punti è normale che, ripeto, è quello che mi interessa, è quello che voglio vedere, voglio vedere una squadra che ha la stessa personalità che ha dimostrato nelle ultime trasferte. Tornando un attimo all'attualità del Potenza, come si spiega il percorso anomalo del Potenza fino a questo momento della stagione? No, ma questo, lo ripeto, è un anno molto difficile perché erano partiti anche abbastanza bene però poi hanno avuto problemi anche loro fra infortuni, fra Covid, poi c'è stato il cambio di allenatore fra l'altro è arrivato un allenatore veramente importante per la categoria, esperto, che sa come tirate fuori in meglio dai loro giocatori e quindi, l'ho detto anche ai ragazzi, ci aspetta una partita difficile il campo, il Viviani è uno stadio ostico per tutti e quindi dobbiamo arrivare pronti contro una squadra che tralasciando poi gli ultimi risultati è una squadra che vi posso assicurare che nel giorno di ritorno rientrerà in una classifica diversa, quindi dobbiamo stare molto, molto concentrati. Fabrizio Longo per la Sicilia dopo la vittoria di Viterbo ha detto di volere parlare alla città al termine di questa prima parte di stagione, ha parlato anche di empatia, può approfondire? Ma assolutamente questo, a volte quando ho cercato di fare capire determinate situazioni che abbiamo avuto e per far capire che stiamo cercando di dare il massimo, non sono alibi quando c'è un momento della squadra che può essere meno brillante, abbiamo alternato belle partite con partite un po' così, ma un calendario fitto, una stagione così, tanta gente che non ha fatto preparazione, degli infortuni possono sembrare degli alibi, mentre invece quello che voglio dire è che questa squadra sta cercando di arrampicarsi in classifica anche nelle difficoltà, quindi credo che prima o poi queste difficoltà finiranno, avremo un organico pieno e insieme con tutta la città possiamo portare un anno che ripeto, in alcuni momenti è sembrato anche che possa essere solo di transizione e invece tutti insieme lo possiamo portare ad essere un anno dove ci giochiamo poi qualcosa di importante, detto questo è normale che di stata ce n'è da fare parecchia e gradirei se grazie alle nostre prestazioni si creerebbe quel grande entusiasmo che poi può essere soltanto la marcia vincente, perché per tutti giocare senza pubblico e senza calore può togliere qualche punto, per il Catania ne toglie più di qualcuno perché è la verità quindi effettivamente poi è solo questo quello che voglio dire, oltre che poi ecco mi auguro ho detto queste due partite perché veramente io credo che questa squadra se continuiamo a spingere possiamo chiudere questo scorcio che abbiamo affrontato veramente con tantissime difficoltà dal punto di vista dell'organico in una posizione di classifica che poi nel giro di ritorno dobbiamo cercare di cavalcarla ancora, quindi vorrei dire che un primo passetto lo stiamo cercando di fare verso il consolidarci lì e quindi c'è bisogno di tutti, di voi, gli stati sono chiusi ma avere il calore della gente secondo me ci fa rendere ancora di più. Enrico Salvaggio per calciocatania.com, considerando le indisponibilità in difesa e a centrocampo pensa di confermare lo stesso il 3-5-2 o prende in considerazione l'ipotesi di un cambio di modulo? No, assolutamente, noi durante i 90 minuti spesso abbiamo anche cambiato pelle quando è stato possibile avendo delle soluzioni, quindi io credo che non mi va di parlare di indisponibilità, non mi va di parlare di nulla, andiamo con un 11 titolare e con altre alternative che abbiamo, dobbiamo pensare solo a questo, chi ha giocato di meno deve meritarsi lo spazio che gli si sta concedendo sia per qualche indisponibilità di qualcuno che era partito avanti come griglia di titolare e quindi sono fiducioso, non voglio parlare di assenti, è normale che quando parlo di tre partite una settimana lì scatta il vero problema, ma con una settimana di lavoro non la voglio neanche sentire questa parola degli indisponibili. Dario Conti per News Catania e Tutto C, le chiede di Piccolo, come cambia il Catania tatticamente con il suo inserimento, può dare nuove soluzioni? È stato un po' un azzardo lasciarlo in campo fino alla fine a Viterbo? È sempre nell'onestà intellettuale che ci vuole, io credo che Piccolo è un'idea di calcio che ho io, quindi gli esterni che ti sattano l'uomo, che ti creano una superiorità, che ti fanno assist e come Piccolo ecco, credo che abbiamo bisogno di altri giocatori con queste caratteristiche, quindi non si può mettere addosso tutto a Piccolo adesso dopo otto mesi, anche perché vi ripeto, è stato un azzardo 90 minuti ma il ragazzo con la testa li ha tenuti, adesso c'è una settimana di lavoro e spero che sia in una condizione brillante come quella di domenica, quando si parla poi di una partita ogni tre giorni ci può essere anche il problema del recupero, quindi dobbiamo trovare varie soluzioni per questo interpretiamo anche qualche modulo a volte un po' meno bello ma che può essere più compatto per la disponibilità dei giocatori che abbiamo e per lo stato di forma che hanno quindi la mia idea è assolutamente quella anche di giocare con due punte e due esterni con queste caratteristiche perché sicuramente da lì nasce pure un calcio più frizzante, più gradevole, più entusiasmante Daniele D'Alessandro, date le ottime prestazioni fornite da Confente nelle ultime settimane è realistico supporre che non esistano gerarchie per il ruolo di portiere titolare ha già stabilito chi dovrà giocare domani tra lui e Martinez? Io credo che quando ci sono due portieri importanti si valuta anche lo stato di forma, lo stato di continuità è una risorsa avere due portieri che ti fanno, per dire che ne abbiamo tre perché anche Santura è un portiere molto importante, ha avuto le sue problematiche e quindi in questo momento con Martinez e Confente mi sembra che siamo copertissimi nel ruolo e ti fa stare tranquillo non c'è una preferenza per il successo che Michele si è fermato, Alessandro sta andando bene è giusto dare fiducia come è stato dato prima. Le ultime due domande, partiamo da quella di Edoardo Barbera quante conferme ci saranno nell'undici titolare domani? Dobbiamo valutare qualcosina ancora perché ripeto negli ultimi due giorni abbiamo avuto purtroppo qualche defezione di troppo e quindi ho studiato per quello che è possibile qualche soluzione e domani poi cercherò con lucidità anche di gestire 90 minuti perché abbiamo dei giocatori che possono interpretare determinati ruoli e quindi anche da lì cambia un po' l'interpretazione Claudio Lonero a chiudere, teme un probabile appagamento o un calo di concentrazione da parte dei suoi giocatori per via degli ultimi risultati positivi? Sarebbe un delitto perché io oggi ho detto ai ragazzi dobbiamo cercare di alzare e di vivere nella pressione per l'alta classifica non nella pressione positiva intendo di cercare sempre di guardare in alto quando non si riesce a fare il risultato pieno si deve ripartire però avendo avuto la consapevolezza di aver dato il massimo per questo io due settimane fa con la Cavese dissi che in un momento, in una partita molto difficile da interpretare per noi con tante situazioni che non andavano bene dentro al campo però la squadra ha cercato di combattere con armi diverse quindi anche una partita che non porta i tre punti ci deve dare la consapevolezza di essere un gruppo forte, un gruppo unito e poi di tirare fuori continuità e prestazioni siamo arrivati a una buona striscia e quindi credo che su questo dobbiamo cercare di chiudere prima della sosta con questa mentalità